Da Via Diazza a Via Cavour sono numerosi i negozi di Ravenna che negli ultimi tempi hanno abbassato la Sara Cinesca. Ad elencare le principali criticità del settore è Anna Greco, operatrice del centro storico che riassume le istanze di molti colleghi. Noi il centro storico abbiamo bisogno di fare quello che hanno fatto altre amministrazioni, sempre di quest'area politica, sto parlando di Rimini per la Notax Area e di Bologna per il decreto UNESCO, che vanno nella direzione che noi praticamente chiediamo da 30 anni. La prima è quella di abbassare gli affitti perché per noi sono diventati insostenibili, considerando che i fatturati non sono più quelli degli anni 80. A questo proposito voglio aggiungere che le fideuzioni devono essere assolutamente vietate perché ormai sono diventata pure mera speculazione. Il nostro centro di Ravenna è stato abbandonato ormai da tanti anni, è nel degrado più totale. Poi noi, nonostante abbiamo otto siti UNESCO, e ce la cantiamo da soli che abbiamo questi otto siti UNESCO, non sono abbastanza valorizzati perché comunque Ravenna ha bisogno di infrastrutture veramente proprio profonde. E sono una, come vado dicendo ormai da tanti anni, la rete ferroviaria che va praticamente potenziata con l'alta velocità e collegare Ravenna a quantomeno con tutti i capoluoghi di regione. Per quanto riguarda anche il discorso di portare eventi a Ravenna, che siamo assolutamente d'accordo, però gli eventi che vogliamo a Ravenna devono essere eventi, come devo dire, strutturali, come accade nelle altre città, come Firenze, Milano, Venezia, eccetera, Bologna stessa. Quindi vogliamo delle fiere, delle conferenze, dei convegni. Il turismo che abbiamo è un turismo poverissimo, che per carità va bene per alcune tipologie di attività. Vedi bar, ristoranti, pizzerie e anzi, benvenga e grazie. Ma non è solo quello. Poi un'altra cosa che bisogna fare, che nel decreto UNESCO, rivedere il rilascio delle autorizzazioni commerciali